Il progetto di questo film è nato perché Anthony ha viaggiato tantissimo con il suo primo lungometraggio di esordio, Ilo Ilo, che ha veramente fatto il pieno di tantissimi premi, una quarantina, e nel momento in cui girava da un festival all'altro si è un po' annoiato di questo suo primo film e ha cominciato a pensare al suo prossimo progetto. Ha sempre avuto tanto affetto e tanto rispetto nei confronti delle donne e così ha pensato di realizzare questo film relativo al rapporto che nasce fra un insegnante di cinese di mezza età e il suo studente. L'insegnante, questa signora di mezza età, poco per volta nel corso delle sei settimane di scrittura, nel copione, è diventata poi una ragazza più giovane ed è diventata anche una parte autobiografica poiché anche Anthony nella sua vita reale ha cercato con tantissimi sforzi di avere un figlio con sua moglie. L'anno scorso ha avuto un figlio, quindi in parte la protagonista, Ling, è un po' Anthony e un po' sua moglie. La seconda parte del soggetto è proprio la pioggia che è un personaggio fondamentale del film e che è una caratteristica di Singapore. Una grande fonte di ispirazione per Anthony Chang è il cinema degli anni Ottanta di Taiwan. Registi del calibro di Edward Yang e Ho Sao Xiang. Ama talmente tanto questo cinema che l'anno scorso, ha trascorso un anno al College di Cinema di Taiwan proprio per entrare a far parte di questo circolo e conoscerli ancora meglio. È una grande amante della cinematografia di Ang Lee e adora il cinema realistico. Ciao! 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 Grazie a tutti.